Sono stati oltre 170 gli interventi in cui sono stati impegnati i Vigili del Fuoco del Veneto per il maltempo degli ultimi giorni. Particolarmente colpito il Vicentino con oltre 80 interventi per allagamenti, rimozione di piante dalla sede stradale e smottamenti, il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco di Vicenza è stato rinforzato nella notte con il richiamo di persone libere dal servizio. Le richieste di soccorso sono arrivate soprattutto dalla zona di Schio e dell'Alto Vicentino. Poco prima dell'alba tre giovani a bordo di un'auto nell'attraversare una stradina precedentemente asciutta vicino alla provinciale 78 a Valdastico sono rimasti bloccati al centro di un torrente. Gli operatori Speleo Alpino Fluviali e Vigili del Fuoco di Schio hanno raggiunto i ragazzi e dopo aver predisposto a una linea vita e fatto indossare loro i dispositivi di sicurezza li hanno tratti in salvo. Interventi dei pompieri anche sulla linea ferroviaria Belluno-Vittorio Veneto che è rimasta a lungo bloccata per un albero caduto poco dopo le 19 in panne il treno regionale in transito con ben 65 passeggeri a bordo. Pompieri impegnati poi anche in una storica e purtroppo sempre critica situazione sono circa 6.000 metri cubi di materiale che incombono minacciosi sull'abitato di Sciucaz in comune di Alpago tanto che domenica pomeriggio è stato necessario procedere all'evacuazione dei 17 abitanti del paese. Una frana che si era creata il 29 ottobre scorso con il disastro di Vaia e che ora torna a fare paura. Le piogge di questi giorni hanno infatti dato il colpo di grazia al territorio sempre più fragile. Gli smottamenti messi in sicurezza o monitorati a vista come Borsoia Tambre o il movimento franoso sulla A27 a Farra non hanno creato problemi ma in quelli in cui non c'è sorveglianza si è creata una vera e propria emergenza. Operazione di soccorso infine anche nelle province di Verona, Padova e Treviso.